Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e io sono Marie Ragazzi finalmente siamo tornati a fare i video, scusateci se in questi giorni non ne avete visti perché eravamo tanto impegnati con le live e dei mondiali di Brawl Stars però finalmente siamo tornati a bomba ragazzi, tra l'altro mancano 2 giorni e 15 ore per la season e siamo leggermente tristi, non so se capite qualcosa dalla mia Shelly, non so se capite Comunque ragazzi, sto per arrivare a proposito a livello 100, dopo 100 anni ragazzi perché voglio dire arrivare al 12.000 coppe e non avere ancora il livello 100, sono un abbo ragazzi, sono un abbo e non dite alla Martina che ho appena mostrato il suo profilo perché sennò si incazza e niente ragazzi Sì no, intendo proprio l'esperienza Ma vabbè, chi se ne spiega? Cambia qualcosa, no? Ah, era che si incazza per ogni roba Allora Io, non so se fare la footbrawl ragazzi perché si potrebbe anche fare Sai il video che prima Eh infatti Perché se perdi dopo un casino Anzi, facciamo così ragazzi, andiamo su Caprenciarn e facciamo un paio di partite Facciamole in solo, se va male ragazzi facciamole in due Ovviamente con il signor Bull Perché ragazzi ho provato a pushare un po' Tic Bombardino però mi è andata malissimo Mi sto facendo aiutare un po' tutta la Martina perché veramente io non li so usare minimamente Vorrei dire una cosa però non posso perché capisci il nome che mi metterò sotto come profilo se no E allora perché l'hai citata? Eh? Vabbè Io sto andando al centro ragazzi però i miei dubbi se andare o no A parte che ormai ti sono andato quindi sti cavolo No, no, no Allora ragazzi In teoria in questo video ci saranno molti tagli E molte... Io sto andando a livello sento forte quindi Ah, incredibile Martina Ma come vuoi dire il nappo che ha un naso largo? Siamo il video Nappo che ha un naso largo Cosa vuoi dire? Vuoi dire scarso Allora ragazzi Stavo dicendo Questo si chiama Super LOL Loge Sarebbe Super LOL Va bene non ce ne frega niente Martina Se posso? Grazie Questo video sarà molto tagliato ragazzi Perché se vanno le partite tutte come sono andate prima Non è che stia andando molto bene allora Oltretutto Sono arrivato ottavo E ho fatto un punto esperienza Perfetto Sempre meglio di niente Non potremmo dire di essere contenti Allora io con 5 power up posso fare un qualcosa dai Quelle on si potrebbe killare senza problemi No ragazzi mi dispiace chiudere la gente Perché non è giusto Quindi ti lascio passare amico Cioè è mica un cacchio Perché ti dovrei uccidere Però siccome Sono un bravo Io non ti chiudo Come la Super LOL Non fa altro che morire E non fa per niente LOL Però il power up l'ho preso io Bravo Aiuto C'è stata una caccia Perché io mi comporto così con le altre persone Non mi è vista Non mi è vista Poi magari in casi estremi Ma Non mi è vista Sì sì nasconditi Perché esiste L'ho perdita di coppia Mamma mia pesce Aiuto Non ho parole Non ho parole Non ho seriamente parole Che poi Io non dovevo Iniziare il video Con così poche stelline Abbiamoci questa cassa ragazzi Ovviamente non troviamo un cazzo E Andra partita Perché tutti danno le oscelle E non danno le oscelle E mi danno i bull Ma va che bull è buonissima Sì ma sto corvo Ma ragazzi Ma quanti problemi Ma quanti problemi Si può avere Meno male che l'oscelle Non aveva la guida Non aveva la guida Se non moriva Beh Basta vedere te Ascolta Martina Martina Sai dove devi andare? In Colonia? No no Sai dove devi andare Anzi Sai dove ti faccio finire? In un posto Guarda che non ti potrebbe piacere tanto Quindi mi raccomando Ma perché Non mi Non mi sfidare Non mi sfidare E che paura Capirai? Bene Allora Ti ricordo Che le femmine Non ci si trattano bene Eh sì Allora vuoi una rosa? No No Sì Che poi non ti serve Neanche una rosa Perché ce l'hai già Su Brawl Stars Eh sì Esatto Rose rosse per te Ho comprato stasera Ma sei detto Non ho Io lo sapevo che lo faceva Ma sei registrando? Sì Mi ho detto Compari in un video Io Sì Ma sei che sei Ti ho detto Mi sarei detto Questa è una misura S'avegge a farlo Ma Ragazzi ma Ma Ragazzi ma Ma Ragazzi ma 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 cosa? Ma cosa? Duc dell'infer Ma che cosa? Ma che cosa? Ma cosa? Duc dell'infer Sto qua si chiama Duc dell'infer Ma che vuol dire? Ah pensavo Marco Zuckerberg Che avevo capito così Duc dell'infer Ok Ok Aiui 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 Sei pervertito Allora non sai niente cosa vuol dire Sì Eh sentiamo Uno malatto di quella roba Che pensa solo a quello Non è vero Non vuol dire solo quello Vuol dire anche che pensa a cose brutte Vabbè ma io sei mezzo significato Eh sì sei mezzo significato Però un secondo fa lo sapevi tutto Dai Martina Non ci si può più niente Che poi perché stiamo facendo Ragazzi perché stiamo facendo questo video Ma ascolta Martina Mi Mi stai sfidando in questo video Ok Ma che ti tolgo l'amicizia Ti tolgo l'amicizia Ti tolgo l'amicizia No Molto stretto di un tempo Ah sì sì Vieni pure qua Vieni qua Vieni qua Sì ma il vostro Il vostro cervello Non pesa un kilo Pesa due chili Il mio cervello Parlavo con Perché sta molto forte Il tuo cervello Non pesa un chilo Ragazzi questo video È uno senza Veramente un trash Tutto La Martina è poco acculturata Quindi non sa cosa vogliono dire Queste parole Poco acculturata Impara a parlare l'italiano E io ho detto acculturata Acculturata vuol dire già Che non ha cultura Eh sì Eh E lui sta dicendo che ha Che sei poco Senza cultura Quindi ha ragione Martina Poco acculturata Che finisce Sono zitta Sono zitta E non ti Eh Cosa stai dicendo Facendo Sto facendo Cosa sto facendo Sto facendo un video E tu devi stare zitta Ragazzi aiuto Ragazzi aiuto Non lo so Ragazzi a volte A volte è così A volte è così Ognuno è Il mondo è bello Perché Mario Ognuno le sue piaghe Io ho le piadine Cosa sto dicendo Ragazzi in questo video Io sono una pizza Magari Che bello Sono una pizza Eh Dove li rimangano Eh no Però se è una pizza Quindi ti gusti da sola Ma cosa vuol dire Ma sì No Scusa 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 Il video Non ha senso Scusa Ponte Ragazzi Rifacciamo il video Ciao ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Beh Essere arrivato No ragazzi No ragazzi Dove li trovate Ci gameplay ragazzi Dove li trovate Ci gameplay Solo su Dexter e Mori Cioè ragazzi Non Hai 2400 Coppe Sì Sì Brava Brava Allora Io ragazzi Faccio un breve taglio Così ne approfitto Vado a pisciare Scusate Mi scanto E Ci rivediamo Quando manca Tipo una partita Per il livello 100 Beh dipende Sempre se non arriviamo Tipo nonni Come prima E prendiamo Un punto di esperienza Solo Non farò Non farò Come digi Ragazzi Che arriva a giocare Talmente tanto Che non riesce A più L'esperienza Ci vediamo dopo Ok ragazzi Basta arrivare Ottava posizione Teoricamente Ce la dovremmo Aver fatta Noi comunque Giochiamo al massimo Come possiamo Perché volevo dire Come sempre Ma non giochiamo mai Al massimo Perché facciamo Sempre schifo Quindi Quindi Non so Non so Commentare Ragazzi Comunque ragazzi Di livello 100 Raggiunto Vi devo dire Che non è Chissà che cosa Sicuramente Sono più contento Di aver raggiunto Questo Di tipo 12.000 colpe Anche se Sembrerà strano Ma è così 14 minuti Diretti Neanche male Mamma mia La scegli Mi stava per copare Ma non dovevi Guardare la partita Martini Ma è vero Eh ma dai Gli ho detto Mezz'ora fa Di guardare la partita Ma mi stai spiando te Ma si sto facendo La Mamma mia La tua logica Veramente Arriva a ogni limite Quarta posizione Ragazzi Ce l'abbiamo Sempre se non arriviamo Alla fine di Gigi Eccoci qua Livello 100 Ragazzi Livello 100 Nuovo pacchetto Nuovo pacchetto Teoricamente Pacchetto livello 100 21,99 euro Ciao Ciao Buonanotte E mi è venuta Un'offerta speciale B via 39 Lo gemme 180 punti Ragazzi Ragazzi Buonanotte Ragazzi Questo è bellissimo Ragazzi Me la torrò per sempre Ragazzi Che La amo La voglio sposare Bene Finito il cringe Ragazzi Finito il cringe Possiamo concludere Questo video Che è abbastanza Degenerato E guarda che bella La mia La mia icona Martina Che bella La mia icona Tu non ce l'hai Niente ragazzi Sto scherzando Mamma mia Ma la cosa Allora Concludiamo quel video Speriamo che vi sia piaciuto Ragazzi Finalmente Livello 100 Sono abbastanza Scarsa di livello Esperienza Sai Magina Che dovrei dire una cosa Ma non la dico Seguiteci Se tutte le cose Trovate tutti i nomi Nell'info del canale E niente ragazzi Ci vediamo Speriamo questo bullo 600 Bella